Salve, buongiorno, io sono Maria Rosalia Terracciano, project manager dell'azienda T-Grupp SPA. La T-Grupp è un'azienda di trasporti e logistica con 46 piattaforme su tutto il territorio nazionale e un e-du-porter qui nell'interporto campano. All'interno dell'azienda io mi occupo della gestione della squadra commerciale, collaboro con i progetti legati al marketing. La parità di genere per la nostra azienda trova le radici nella storia dell'azienda. 35 anni fa mio padre è partito, ha iniziato questa attività e l'ha fatto in collaborazione con mia madre. Quindi per noi è venuto naturale poi portare quella cultura, cioè il fatto che un uomo e una donna si siano affiancati e abbiano collaborato così tanto e così bene, per noi è nato naturale, è venuto naturale poi trasportarlo anche nell'azienda che gestiamo oggi. Abbiamo fatto quindi inserendo tantissime figure femminili dai ruoli apicali, quindi il capo del personale anche per noi è una donna, con lei che gestisce tutte le filiali sul territorio è una donna, tante responsabili delle filiali o così come tante persone che creano le spedizioni, quindi stanno dietro a tutto ciò che poi movimenta la merce sul territorio, sono donne. Crediamo fortemente nel fatto che avere una mentalità inclusiva possa accrescere il valore umano all'interno dell'azienda. Fino a qualche anno fa era impensabile vedere delle donne che conducevano mezzi, invece noi oggi in azienda abbiamo tante donne al volante, sia per quanto riguarda l'ultimo miglio, quindi per le consegne, ma anche per i mezzi pesanti, quindi tir, motrici, quindi fanno lunghe tratte tante donne. Vorrei darvi una citazione di Oscar Wilde che dice diamo alle donne occasioni adeguate e loro saranno capaci di fare qualsiasi cosa. Io vorrei aggiungere l'impegno di tutti noi, quindi delle imprese e delle istituzioni che insieme alle occasioni dobbiamo dare delle condizioni adeguate perché tutti i generi possano esprimersi al meglio nella vita attraverso il lavoro. Grazie.